I lavori di ristrutturazione La palestra è stata rimodernata rendendola più efficiente e sistemando i locali di servizio e gli spogliatoi per garantire ai ragazzi sicurezza e fruibilità, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Costabile Nicoletti. Mantenere in buono stato questo tipo di struttura aumenta le possibilità di migliorare la qualità delle attività didattiche degli studenti, dichiara l'assessore alla pubblica istruzione Elisabetta Martuscelli. Ora tocca anche ai bambini averne cura perché è un patrimonio da lasciare anche a chi verrà in futuro, conclude.